Ciao a tutti e bentrovati ai 101 secondi viola di oggi. Fanno rumore, fanno molto rumore le dichiarazioni di ieri di Paolo Sousa. Un uomo che in questo momento probabilmente è stato lasciato solo, un uomo che però a differenza di Prandelli e di Montella ha usato un linguaggio diverso. Si è stretto attorno ai tifosi, attorno alla città, ha fatto un vero e proprio fortino attorno alla propria squadra. Ed ha parlato chiaro, ha detto io sono un uomo vincente, poi i conti li faremo alla fine. Ha detto di non conoscere i due nuovi arrivati, ha detto cose forti e interessanti, di avere voglia di vincere, di avere voglia di crescere e di credere nella positività delle persone. Evidentemente Sousa si aspettava molto altro da questo mercato, evidentemente credo che a giugno la situazione tra Sousa e la Frentina potrebbe diventare dopo solo una stagione assieme molto incandescente. Anche perché Sousa è un allenatore che si sta mettendo in mostra, è un allenatore che ha tante squadre che lo seguono, che ha tante lusinghe e che probabilmente ha voglia di andare a vincere da qualche parte. Si sarebbe aspettato qualcosa di diverso, adesso però deve pensare al campo, a questa squadra che assieme ai tifosi può davvero continuare a sognare il terzo posto. E questa sarebbe la vittoria più grande, al di là di tutto, al di là di quello che si pensi della proprietà, al di là di quello che si pensi del mercato della Frentina. Provare a rimanere in corsa in campo potrebbe essere un qualcosa di incredibilmente bello. La Frentina ci proverà a partire dalla partita di questa sera contro il Carpi, che non sarà affatto facile perché la Frentina in questo momento anche fisicamente non sta benissimo, però c'è da vincere e c'è da fare una grande partita. Domani con i 101 secondi viola. Un saluto da Marco Dell'Olio.